Un centinaio di lavoratori hanno bloccato questa mattina il traffico e piazza indipendenza a Palermo. Succede nel giorno della protesta, sotto la sede della Presidenza della Regione Siciliana degli Ultimi. Gli espulsi dal mercato del lavoro ed esclusi dagli ammortizzatori sociali che manifestano per testimoniare la loro esistenza. La manifestazione è stata indetta dalle segreterie dei sindacati confederali per chiedere la modifica dell'accordo quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga. Noi abbiamo chiesto di rivedere l'accordo quadro del 2013 che ha escluso circa 2.000 lavoratori in Sicilia dalla possibilità in un momento di crisi di avere un sostegno a reddito. È un'ingiustizia. Più volte abbiamo rappresentato il problema al Presidente e all'assessore che aveva condiviso anche le nostre proposte e si era impegnato appunto a integrare e modificare l'accordo quadro e questo è da sei mesi che non viene fatto. Non è più tollerabile una situazione del genere, bisogna porvi rimedio. Sarebbero stati stanziati nuovi fondi, ma questi nuovi fondi al momento non sono stati rasseriti. La situazione potrebbe degenerare verso un'escalation di protesta. La situazione dei metà meccanici è gravissima nella provincia di Palermo, dalla Fiat alla Keller ai cantieri navali, ma tante piccole realtà che sono invisibili, che sono in sofferenza e per le quali gli imprenditori potrebbero anche decidere di non fare più la richiesta della cassa inderoga e di licenziarli. In piazza i lavoratori ex metà meccanici del settore dell'argenteria, ex operai del settore auto, telecom SRL e Palermo Energia che chiede un incontro urgente al governatore Rosario Crocetta. I lavoratori siamo 158 e chiediamo un incontro immediato al presidente Crocetta. Noi espletiamo dei servizi essenziali, quali quelli degli impianti di verifica termici, il fotovoltaico, gli impianti di pannelli solari, il servizio delle scuole, la protezione civile, la pulizia di tutti gli uffici e palazzi della provincia, con costi di mercato al di sotto della bella Consip. Grazie